Ragazzi, avete difficoltà ad arrivare in divisione 1 o non ci siete mai arrivati anche se avete una squadra di ottimo livello? Per migliorare non servono gli epici, non servono i big time, servono le conoscenze, servono le abilità. Da oggi potete contattarmi per ricevere delle lezioni private di football personalizzate, dove vi insegnerò sia le nozioni base che quelle più avanzate, dove vi farò apprendere tutti i comandi nascosti di questo gioco, le funzioni sconosciute alla maggior parte dei player di medio livello e le skills che mi vedete fare nel mio road to glory. Tutto ciò vi permetterà di arrivare ad un buon livello e vi eviterà tante arrabbiature dovute alle delusioni che può dare questo gioco. Trovate tutti i social per contattarmi in descrizione, vi aspetto numerosi ragazzi. Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Timo Play, oggi siamo di nuovo insieme per parlare di football 2023. E sì ragazzi, avete letto bene nel titolo, sono arrivate le prime immagini della Master League di football 2024, ma in che senso, visto che ancora non è uscito il gioco. Adesso vi spiego tutto per bene, prima di andare avanti però come sempre iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate un bel like a questo contenuto che è fondamentale per l'andamento del canale, insomma fate le solite cose che vi chiedo di fare e voglio anche mostrarvi chiaramente una super offerta in eba perché quest'oggi c'è anche una super offerta in eba per spacchettare risparmiando PSN Card da 100€. Se passate dal link che trovate nel primo commento, solo ed esclusivamente se passate attraverso quel link ad un prezzo davvero straordinario, dovete anche inserire il codice ITPSN, si arriva ad un prezzo ancora più basso, chiaramente qui bisogna andare a selezionare il metodo di pagamento che aggiungerà le tasse previste da qualunque stato in pratica e si arriva a un totale di 79,89€, quindi 80€, poco meno di 80€ per una card da 100€, il codice per riscattare la card vi arriva immediatamente, vi compare anche subito nello schermo, voi lo riscattate sulla vostra play e vi vengono subito accreditati 100€ con cui potete fare ciò che volete compreso gli spacchettamenti football, ma solo se passate dal link che trovate nel primo commento, solo se lo fate entro il 2 maggio alle ore 13 perché poi questa promozione scade. Ok ragazzi, non perdiamo ulteriore tempo, siamo sul canale del noto influencer Renan Galvani, qui c'è tutto scritto in brasiliano, la motivazione diciamo di queste immagini, c'è anche scritto in inglese, chissà l'inglese chiaramente può leggere, altrimenti vi traduco io al volo cosa c'è scritto, cosa vogliono dire. Allora, il noto modder durante il PES, il modder è quel personaggio che riesce appunto a moddare, a creare delle mod per vari giochi, ma in generale è anche un programmatore durante il PES, è uno sviluppatore, quindi è davvero una persona molto molto competente in materia, comunque lui è riuscito ad estrapolare alcuni codici rappresentanti alcune scene, alcune scene di intermezzo della Master League sui football, attualmente presenti nei football che sono in fase di test. Vi ho anche mostrato queste righe di codice nei miei video passati, sicuramente qualcuno di voi se lo ricorderà, se avete visto gli altri video dedicati alle indiscrezioni della Master League, ma appunto erano solo righe di codice, non erano immagini, sì, queste righe rappresentano le immagini nel linguaggio in cui è stato programmato il gioco, diciamo, ma non sono usufruibili dai nostri occhi, cioè non possiamo guardare che cosa sono, quali sono queste scene, possiamo solo leggere, beh, Durandi l'ha preso a questi codici, dai football, quindi dai football ragazzi, dal gioco nuovo, li ha presi attraverso il database Steam, chiaramente dove vengono testati tutti i nuovi aggiornamenti, li ha presi e ha creato con questi codici, con queste immagini del nuovo e-football, una mod per PES 2020, perché dice che PES 2020 è quello che più si prestava a fare questa cosa. Chiaramente la mod è per la Master League e appunto va a sviluppare in immagini le sequenze di codici che vi ho mostrato, quindi le immagini che vedremo quest'oggi sono su PES 2020, ma i codici con cui sono state sviluppate queste mod provengono dai football, quindi sì, possiamo dire che in i football vedremo, chiaramente adattati al motore Unreal Engine, eccetera, eccetera, però vedremo queste immagini qua, in quanto i codici con cui sono state sviluppate provengono appunto dai football e non da PES. PES, diciamo, è solo il piatto, il piatto in cui vengono servite queste immagini, non so se mi sono spiegato, però gli ingredienti provengono dai football. Andiamo a vedere, andiamo subito a vedere. Molto interessanti sono, ragazzi. Inizia questo video con alcune immagini che non ci interessano, cioè sono alcuni bug che sono stati trovati, perché mostra anche alcuni bug che sono stati trovati, tipo questo, dei giocatori che si siedono senza sedia, chiaramente poi li sposteranno e li metteranno in panchina come si deve. Questa immagine che rappresenta un tifoso che bala negli spalti, e l'avevamo già vista, quindi non sono queste le immagini eclatanti di oggi e adesso arrivano. Non vi preoccupate, abbiate pazienza. Questo pure l'avevamo già visto e non fa parte delle superimmagini che vedremo oggi, ma è solo un antipasto, diciamo. Ed ecco qui le prime immagini che ci interessano. Vabbè, questo è tipo un intro, queste, ragazzi, queste, queste cutscenes, diciamo, sono immagini d'intermezzo, appunto, il codice è stato preso dai football e sono state sviluppate su PES 2020. Sono molto, molto interessanti. Ripeto, è una mod, ragazzi. Non è che è andato a rubare in Giappone il gioco nuovo e ce lo sta mostrando, no. Assolutamente, assolutamente, ragazzi, che sia chiaro. È una mod su PES 2020 con i codici di football. Scusatemi se lo ripeto tante volte, ragazzi, ma altrimenti si crea un mascello in giro, poi dite che faccio disinformazione. Invece io voglio essere molto, 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 molto chiaro. Veramente deve essere super chiaro a tutti. Continuano le immagini, sviluppate sempre dal nostro Durandil. E si vedono un po' che ci sono delle luci strane, ragazzi, ma abbiate pazienza. È uno solo, non è un team di sviluppatori. E quindi, probabilmente, in i football vedremo immagini del genere in una nuova Master League con i giocatori coinvolti in campo, anche con i microfoni, eccetera. La presentazione fatta in questo modo. Molto, molto interessante, ragazzi. Molto interessante. E ripeto, queste sono immagini che al 99,9% vedremo anche in i football chiaramente adattate al nuovo motore Unreal, perché queste mod sono stati... C'è il codice che ha trovato è stato adattato per Fox, cioè per il motore di PES 2020, invece per Unreal. Essendo che comunque sono due motori che si collegano, diciamo, tra virgolette, è riuscito a fare l'adattamento. Questa è un'altra scena dei giocatori che escono. Quindi, ragazzi, sarà una Master molto coinvolgente anche a livello di scene di intermezzo, assolutamente. Chiaramente non ci sono scene di gioco, non ci sono scene dedicate ai menu, perché le uniche righe di codici che sono state trovate dal nostro Durandil, appunto, riguardano queste scene di intermezzo. Però sì, assolutamente, possiamo dire che queste sono, in parte, le prime immagini che provengono dalla nuova Master League, anche se adattate a PES 2020 grazie a una mod. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate, ditemi la vostra opinione, mi raccomando, perché per me, come sempre, è molto importante. Io vi ringrazio per essere stati mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video, un abbraccio e un saluto dal vostro Simo Play. Bella ragazzi! Ciao!